Ragazzi siamo giunti alla fine di questa CTM quello di oggi potrebbe essere l'ultimo episodio per lo meno una parte di me lo spera Grazie mille per il supporto assurdo avete dato a questa serie è durata praticamente tutta la quarantena e ogni episodio aveva 30 e passa mila mi piace Vi dico una cosa se è terminato questo video vorrete altre CTM sul canale dovete correre a cercare le più fighe e a scrivere qua sotto nei commenti il loro nome E a proposito di commenti c'è un ragazzo che nello scorso episodio mi ha scritto la locazione dell'ultima lana il commento ha ricevuto 1700 mi piace lo troverete qua sotto dobbiamo andare in cima al dungeon e spaccare un muro con una X rossa sopra ci condurrà ad un portale e ci porterà alla lana marrone l'ultima lana per completare la serie Sono emozionato l'ultimo episodio non si scorda mai spolliciate commentate e sgattiate la campanellina io vi auguro una buona visione Bene ragazzi questa è mi bentornati nel quindicesimo e forse ultimo episodio dell'Extreme Highland Survival Siamo sempre qui nella nostra mini base senza vita senza cibo senza niente e adesso dovremo fare una cosa che non apprezzo tantissimo ma è l'unica soluzione che abbiamo a disposizione Ovvero svuotare tutto quanto il nostro inventario qua dentro all'interno della chest dopodiché buttarsi direttamente nella lava o in qualche modo cercare di uccidersi È l'unico modo che abbiamo per recuperare un po' di vita e provare ad affrontare L'ultimo dungeon baby Ok era tutto previsto ragazzi rinasciamo qua e tutto va bene A quanto mi avete detto io devo salire in cima a questa intersezione Allora fatemi recuperare intanto tutte le nostre cosine che sicuramente ci saranno utili Vi direi che prendiamo del cibo ma non ce l'abbiamo quindi col cavolo che prendiamo il cibo Recuperiamo piuttosto un po' di materiali non so quanti ne serviranno ma dobbiamo salire qua su in cima giusto? Fondamentale spero che questi blocchi siano sufficienti altrimenti siamo rovinati Il ragazzo che ha scritto quel commento ha parlato di una sfera gigante di bedrock al di là del portale Con l'unico accesso sopra di esso Ora voglio capire se è fattibile o meno perché comunque anche se non abbiamo preso una lana potrebbe andar bene lo stesso Dai tutto sommato Che problema c'è se non prendiamo tutte e dieci le lane è un disastro Se non prendiamo tutte e dieci le lane è un fallimento totale E il peggiore dei fallimenti è essere a un passo al traguardo inciampare e lasciare i denti lì sulla linea Ovviamente le probabilità di morire all'interno di quel dungeon sono altissime Quindi una volta arrivati in cima a questo pillar nel caso in cui dovessi individuare la X rossa Metterò il mio secchio d'acqua che usufriremo come ascensore Dove diavolo è la X Oh è quella è quella è quella è quella è quella ci siamo Incredibile Ci siamo dai siamo praticamente arrivati ce la faccio sicuramente Iniziamo a mettere il secchio d'acqua qua giù in modo tale da farlo cadere Dopo aver scoperto alcuni dungeon di questa serie sono sincero non avrei mai creduto di arrivare alla fine Cioè probabilmente o mi sarei arreso prima o in qualche modo avrei spaccato tutto quanto Diciamo che grazie allo stack attacca non sono impazzito completamente Ma nonostante lo stack attacca è stato complicato E voi siete diretti testimoni dello scempio di varie situazioni in cui ci hanno messi In cui ci siamo trovati Eccolo qua ci siamo eccomi dietro la X rossa eh Cioè praticamente inserendo le lane all'interno del monumento Mancandone solo una ti diceva guarda devi andare qua giù Grazie Gentilissimi siete proprio simpatici Soprattutto con i teleport che non funzionano Se i teleport funzionassero ragazzi noi avremmo risolto tutti i nostri problemi Perché avremmo del cibo ma allo stato attuale delle cose non ne abbiamo Questo è un botto di bedrock C'è un ponte sospeso Forse il portale in fondo ha questo ponte sospeso Cioè guardate che psicopatici Va bene step sei ad un passo dalla fine di tutto Quindi adesso un bel respirone profondo Sperando che il portale funzioni Lì dovrebbe esserci il portale Io vedo solo un buon Ah ok è comparso Niente ci fermerà dall'entrare qua dentro ragazzi In una notte buia e tempestosa Che è solo buia e tempestosa non è Siamo pronti a varcare La soglia dell'infinito Ah sto portale fa un casi Devo salire? L'avevo detto che servivano i blocchi E meno male che li ho spaccati Meno male Devo salire sopra Devo penetrare in quella terra Però c'è della terra Terra vuol dire poter piantare patate e carote Non le abbiamo ma possiamo uccidere i mostri Finché non ce le droppano Salve Oh No way Siamo liberi Calmi Cosa Cosa Siete matti Ma non ho neanche i blocchi a disposizione per arrivare laggiù Sì vabbè guarda Ora ci sono i diamanti iron ovunque Che gentili siete Non si può fare ma chiudiamola qua in bellezza No Chiudiamo qua Bellissimo no Chiudiamo con questa scena fighissima No Come faccio? Cioè sta diventando una skyblock adesso essenzialmente Oddio Oddio l'alberello ce l'ha dato Attenzione Due alberelli Non ho portato le ossa Se avessi saputo una roba del genere sicuramente l'avrei portate con me Dobbiamo creare i ponti raga Dobbiamo arrivare alla sfera Salire in cima E dentro Mio malgrado Ci saranno anche dei dungeon da affrontare Con degli spawner Sarebbe stato tutto troppo bello Tutto troppo semplice no? Ovviamente niente È semplice Con lo stack attacca ragazzi Con lo stack attacca Tutto sarà fattibile Fidatevi Ovviamente siamo nel vuoto Quindi nel caso in cui dovessimo cadere Che ve lo dico a fare Moriremmo Perderemo tutto quanto E sarebbe irrecuperabile Intanto nel frattempo si è consumata Una delle mie dieci cosciotte di pollo Finito questo strato vado Perché mi sono già stufato Di spalare la terra da terra La terra da terra Dove devo sparare la terra Se non da terra Da terra per forza Solo da terra puoi sparare la terra No? Una persona intelligente Creerebbe una rotta Per poter raggiungere anche La sfera di diamante in aria Potremmo farlo Sarebbe maggiormente dispendioso A livello di materiale E noi già ce li abbiamo limitati Quindi ora vediamo Deciderò il da farsi Avvicinandoci lì Saremo poi più alti Va bene dai I diamanti li prendo solo Perché sono diamanti E sappiamo benissimo Sia io che voi Che potranno servire In qualche modo Ci mancherebbe solo Che dopo aver fatto sto casino Mi cadono i diamanti nel vuoto Lì sì che mincavolo Quanti ce ne saranno? Uno, due, tre Quattro, cinque Sei, sette Sono un bel po' in realtà Non sono stati tirchi Non sono stati tirchi per tutta quanta la serie Alla fine hanno detto sai che Mettiamogli una marea di diamanti Così non sa nemmeno cosa farci Grazie un altro crafting Ci facciamo Abbiamo detto Gli stivaletti Molto bene A questo punto direi anche Armatura E il metto Riesco a fare entrambi? Sì riesco a fare entrambi Molto bene L'unica cosa che manca No non manca niente Abbiamo tutto A questo punto Già che ci sono Creo una stazione di posizionamento Metto una chest Lascio dentro quello che è in avanzo Faccio una palla di diamante E prendo ancora terra Vogliamo fare le cose per bene A meno in quest'ultimo episodio? Direi di sì Palla di diamante Si fa solo nel caso di ricchezza totale In questo momento abbiamo l'armatura di diamante Quindi va bene Il nostro unico problema è il cibo Del resto abbiamo praticamente tutto Vabbè in un extreme survival Effettivamente avrei potuto immaginarmi Una cosa del genere Sono stato un po' troppo sicuro di me Allora io che me ne intendo Di distanze Direi che possono bastare Tutti questi blocchi che abbiamo a disposizione No perché le mie stico dentro Ci servono Continuiamo Il nostro mega ponte Forse adesso ho preso anche troppi materiali in realtà Si lo so che ci sono ancora un botto Di palline in cielo Con cose utili Ma Cioè Carbone Iron Che mi servono Non indugiamo di fronte Affatto quasi compiuto Ovviamente immagino che la lana Sarà sul fondo Di questa sfera Meno male Non ci sono i mob Lungo il perimetro Si insomma il perimetro Quello che è Meno male non ci sono i mob E basta Sta andando tutto particolarmente bene Secondo i piani Ecco la handstone Come mi avevate previsto Mi avevate detto in anticipo Frattempo due cosciotte sono andate Eccolo E' un tempio Ma dov'è? Cos'è questo posto? Bellissimo Ok c'è già uno spawn Lo rompiamo Creeper energizzati Malissimo A tratti Oh c'è un Mori 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 Perché di giorno non nascono Non lo voglio sapere Rompi e basta Rompi e basta Giustamente ci sta che nascono solo di notte Abbiamo avuto culo allora Guarda minion Minion Ok forse ci sono dei villager Che potranno aiutarci Abbiamo portato gli smeraldi Meno male Ci siamo? Ragazzi ci siamo Oh ancora 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 Quanti 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 Mi preoccupo tantissimo di tutto ciò E' rotto pure questo Mmm Ragazzi Non lo so Si muovono molto in fretta Sì ciao belli Ma io muoio Io muoio qua sotto Cos'è un labirinto? No Ma no Ma no 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 Dai non ho neanche la ricena No No Ragazzi Ragazzi Sui serio Sui serio Sul serio fai Chiudi 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 No sopra sta sopra Aiuto No 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 ragazzi Ragazzi No 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 Nice to meet you un corno Di nuovo Dai colpiscimi una volta Oh no 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 E poi No E poi Nonne 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 Mi segue? Oh mi segue sì Certo che mi segue Raga fanno più danno di quanto avrei voluto Nonostante abbiano un cetriolo in mano Un cetriolo in mano Un cetriolo in mano Allora di là siamo arrivati Qua mi sono chiuso Di qua dietro c'è il dungeon Devo andare di qua Devo andare di qua Non posso più correre raga Non posso più correre Oh No way Impossibile What? Veloce 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 No non ci credo che moriamo soffocati eh Aspetta 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 Il trucchetto per sopravvivere Fermo Si sta bugando tutto raga No 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 Calmo 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 Ok Così esci di nuovo Sta funzionando veramente Ok Chiudi tutto Di nuovo Adesso metti la torcia Oh Non c'è più acqua La lana marrone Che cosa è successo? Calmi Ho visto una roba di diamante Mentre cadevo Spero non ci siano i mostri Magari mi hanno seguito C'è qualcosa? C'è qualcuno? C'è un villaggiero? Veloce come il vento E sarà Voi non vedete niente Probabilmente va perché è tutto buio L'importante è che veda io Ciao King Kaplan Questo è il tuo trono Ma è bellissimo C'è un teletrasporto Ok Probabilmente questo teletrasporto Ci riporterà a casa Un po' di diamanti Non mi fanno schifo È vero questa serie è finita Ma Cioè posso portare a casa Un bottino Qualcosa Immaginate se ora mi danno un colpo In testa mi one shot Sarebbe molto divertente Ciao amico Vuoi parlare? Vuoi parlare? Non vuoi parlare Ti girano i coglioni eh Non rubavo i diamanti Mannaggia la miseria Dice Du milani So qua sotto Ma ha rotto ma nulla Nessuno Se è arrivato te Porti via ogni cosa Va bene King Kaplan Ma vattene a fan cuore eh Ciao ne Oh Ma vi immaginate Fossi a scavo Sulla mia piantagione Avessi rotto tutto Ce l'abbiamo fatta raga Incredibile Non è possibile Adesso dobbiamo fare una cosa strategica Al 100% Siamo a casa Abbiamo l'ultima lana del gioco È stato più facile del previsto Confermo È bastato un paio di stacca attacca E tutto si è risolto Probabilmente mi ha salvato Dal colpo di quel minion Che si chiamava minion L'avere tutta l'armatura di diamanti Altrimenti ci avrebbe one shotati Allora il piano è questo Recupera tutta questa roba E buttala qua dentro Non c'è abbastanza spazio Sti tavoli li metto Di qua l'armatura Dobbiamo ucciderci Dobbiamo ucciderci un attimo E ora capirete il motivo Perché tutte le altre lane Non sono qua Non sono all'intersezione Teoricamente lo spawn È settato ancora lì Siamo d'accordo? Basta questa altezza Per fracassarsi le gambe Lo scopriremo tra 3 2 1 Basta E avanza Respawn Bonnie Bonnie Apri questo Prendi le lane Prendi ne solo una Di ciascun tipo Che non voglio rischiare Ok Bonnie Teleport Madonna Madonna ce l'abbiamo fatta Non mi sembra vero Senza cibo Senza niente Credibile No ci sono dei mostri Via 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 Vai 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 Veloce Come al vento Torna a casa Alessi I show complete Io senza il vostro commento Probabilmente non ce l'avrei mai fatta No 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 Non esiste Non esiste proprio Non mi sembra Vero Raga ce l'abbiamo fatta Va bene Non ci serve altro Oltre alla lana marrone Andiamo Al monumento L'abbiamo completato Adesso vedrete anche Che ci dropperà La mappa Sì ciao bello Ti piacerebbe un sacco Ma non mi prendi Ok Victory monument What Sono un attimo colpito Da questa cosa Dove sono le altre line Dove le ho lasciate Houston We got a problem Le abbiamo lasciate Nell'altra intersezione Perché non le ho mai portate a casa Va bene Le andiamo a prendere Non è assolutamente un problema Ah già c'è una cosa Che non vi ho mai detto Perché probabilmente Non c'è la stanza Necessità O forse ve l'ho detto Mi sono scordato Avevo creato un collegamento All'altra intersezione Quindi ci possiamo arrivare Teoricamente Da qua Se non mi ricordo male Avremmo bisogno Delle angurie Sì perché altrimenti Finiamo la stamina Allora eccoci qua Vi ricordate no Eravamo saliti Avevamo fatto dei percorsi Poi avevo letto nei commenti Step basta che alzi Chunk E scopri dove è la tua base Infatti era laggiù Ci avevo fatto il collegamento Noi teoricamente Scendendo qua sotto Ci ricolleghiamo All'altra intersezione Dove avevo lasciato le tre lane Di quell'intersezione Eccola La cesta Raga Oddio ci siamo Incredibile Lime wool Yellow wool E pink wool Ce le abbiamo tutte quante Ciao bella intersezione Non ci rivedremo Mai più Torniamo a casa Mettiamo le lane Il monumento E completiamo Definitivamente La serie ctm Ci siamo Ce l'abbiamo fatta Ragazzi Non ci sto credendo Nella fine Quando l'ho iniziata Non credevo Sarebbe successo Tutto ciò E invece Mi sono smentito Da solo Si vola Dentro Al monumento E lo completiamo Adesso O se lo completiamo Allora Yellow wool La piazzi qua Green wool La piazzi qua Adesso In teoria Se metto la lana rosa Mi daranno la mappa Di cui parlavamo prima Eccola qui Infatti lo sapevo Del legendary brown wool Is hidden behind the hex E tu pensa un po' Ce l'ho già Vedete Questo è il dungeon Ti dicono che devi salire Mortacci loro Vabbè Facciamo finta di niente Ci siamo Siamo pronti Pum Congratulazioni E andiamo Non c'è niente per me La gloria infinita Diamanti che piavano dal cielo Niente di tutto ciò Ma va bene così Ragazzi Ce l'abbiamo fatta insieme Perché mi avete sostenuto Fino alla fine Spolliciate E commentate Scrivendo nuove mappe CTM Che volete che io faccia Vi prego Non così complicate Perlomeno i mob Non devono one shotarmi Vi supplico Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina E noi ragazzi Ci vediamo nei prossimi giorni Con un prossimo video Grazie mille per il supporto Qua è sempre tutto Buone Wilson ce l'abbiamo fatta È incredibile Ci sono voluti 15 episodi Per prendere 10 lane Però ce l'abbiamo fatta Nel senso Poteva andare molto peggio Eh lo so che uso Lo stack attacca Ma lo faresti anche te Dai Su via Ma cosa parlo a fare Con un pupazzo Dai Dai